Vendere cara la pelle in casa della capolista Alessandria, questo l'obiettivo dell'Arezzo alla vigilia della trasferta in terra piemontese. L'entusiasmo tra i tifosi e i giocatori dopo la vittoria e rimonta con il Siena sarà un aiuto in più. L'Alessandria si presenta con una difesa solida, con due centrali esperti, una mediana quadrata e bocche di fuoco in attacco allo scontro diretto contro la seconda della classe. Vista così l'Alessandria fa paura. In difesa Barloc è favorito su Manfredo, uscito per un problema fisico contro la Lucchese. A centrocampo uno tra Cazzola e Mezzavilla riposerà, ecco quindi Nicco mentre in attacco Marconi prenderà il posto di Bocalon. Ci saranno alcune novità in formazione anche per l'Arezzo, tuttavia l'undici titolare non si discosterà molto da quello visto in azione contro il Siena dal primo minuto. Il 4-4-2 è più di una possibilità visto che permetterebbe all'Arezzo di rispondere specularmente all'Alessandria. A centrocampo Rossetti dopo due buoni spezzoni di partita potrebbe sostituire Corradi. In attacco c'è l'imbarazzo della scelta. Moscardelli unica punta con Grossi o con Erpen oppure in tandem con Polidori. Queste le alternative a disposizione di Sottili che come già fatto con Carrarese e Siena ha dalla sua la possibilità di variare a partita in corso il proprio ordine tattico. Calcio d'inizio alle 18.30. Arbitro dell'incontro sarà Antonio Giulia di Olbia, coadiuvato da Antonio Buono e Maurizio Cartaino di Pavia.